Oggi siamo qui per fare un'ora di didattica a distanza fuori dalla scuola, proprio per rappresentare il fatto che siamo stati lasciati indietro di nuovo e che noi a scuola vogliamo tornarci e tornarci in sicurezza, come è giusto che sia. Nella giornata internazionale degli studenti, flash mob dei ragazzi della rete Studenti Medi di Treviso davanti al liceo Canova, Besta e Riccati. Un'ora di didattica fuori dalla porta delle scuole in cui per ora non possono stare. È da marzo che si sapeva che c'erano delle difficoltà per riprendere la didattica e non è stato fatto nulla e un'altra volta, dopo un mese dall'inizio della scuola neanche, siamo stati costretti a tornare in casa con una didattica a distanza che non è ancora stata regolamentata a dovere. Rientrare in classe, magari in piccoli gruppi, rivedere la didattica a distanza sfruttandone tutte le potenzialità. Riuscendo a integrare nel modo giusto la didattica a distanza, cercando un punto di accordo tra professori e studenti, siamo sicuri che si possa trovare una soluzione. Ed è per questo che abbiamo lanciato per nostra iniziativa la carta dei diritti degli studenti e delle studentesse in didattica a distanza, proprio per dire la nostra, e per cercare di trovare un accordo con quelle che sono le scuole e i docenti. E poi gli strumenti, molti ragazzi non avendo avuto accesso al bonus per il computer e avendo magari a casa dei pc obsoleti, seguono le lezioni sullo smartphone, con tutte le conseguenze che ore e ore con lo sguardo fisso sul piccolo schermo possono comportare. Sì, alcuni si sono magari lamentati anche di questo, che si sono sentiti male, avevano avuto mal di testa durante le video lezioni per le troppe ore, però diciamo che i professori e tutti ci hanno detto che per ora si può fare solo questo.